Cari concittadini, poter comunicare direttamente con voi è il miglior modo per poter dare delle informazioni che consentano di vivere meglio e di poter gestire meglio le emergenze. L'informazione è il miglior modo per essere sicuri. Per questo motivo il Comune di Napoli ha deciso di aderire a un servizio, la piattaforma Sindaci in Contatto 2.0 che consente di poter inviare attraverso la telefonia mobile delle informazioni in tempo reale che riguarderanno l'emergenza meteo, eventuali emergenze sul traffico, dei possibili eventi culturali e tante altre informazioni che sono utili ad aiutare il contatto tra l'amministrazione comunale e i propri cittadini. Per iscriversi al servizio basta compilare il form sul sito www.napoli.sindaciincontatto.it Aiutiamoci insieme per poter fare una Napoli più bella, una Napoli più vivibile e una Napoli più sicura. Grazie a tutti!